La spiaggia di Mattinatella è ancora off-limits e non per il coronavirus, ma per i ritardi accumulati nella consegna dei lavori di messa in sicurezza delle falesie che sovrastano la baia. E così anche il mese di giugno vola via senza che i nuovi concessionari di stabilimenti balneari possano riaprire in piena tranquillità. La spiaggia è un cantiere aperto, i commissari prefettizi del comune di Mattinata avevano promesso che tutto sarebbe terminato entro il 15 giugno, invece i lavori proseguiranno fino al 30 giugno con una piccola apertura. Da oggi i concessionari potranno iniziare le attività di preparazione all'apertura dei lidi e dei ristoranti. Antonia Ciuffreda è una delle titolari di stabilimenti balneari di Mattinatella e ci dice che è praticamente impossibile procedere con il cantiere aperto, ma non abbiamo alternative se vogliamo salvare quel che resta di una stagione alquanto difficile con danni economici di non poco conto. Purtroppo ancora una volta siamo stati presi in giro, intanto la spiaggia si presenta come un luogo degradato con cumuli di terreno, rami di alberi e altri rifiuti oltre al via vai di camion e mezzi meccanici.